Un processo di miglioramento genetico. Veramente una cosa molto interessante il fatto che le marche siano seconde in Italia per le aziende che producono semi, semi di cereali e di altri prodotti che attraverso la certificazione e la qualità danno risultati importanti a chi sceglie di utilizzare le proprie coltivazioni. Meno chimica, quindi un ambiente più sano e delle qualità organolettiche straordinarie per un modo contemporaneo che vuole conoscere quello di cui si nutre. Una realtà preziosa che fa ricerca, che sviluppa nuove piante in grado di volta in volta di superare malattie che prima non si riuscì a gestire. Da parte nostra un grande interesse è la volontà di creare un tavolo operativo proprio perché vorremmo sostenere questo tipo di scelta che siamo convinti che ha già grande qualità oggi ma ancora di più interessante in un futuro visto che le persone vogliono sempre più prodotti conosciuti, tracciati, sapere quello che mangiano, avere nella certificazione quell'elemento di qualità che ci aggiunge valore a quello che facciamo. Quindi un'esperienza molto importante che va certamente tutelata ma anche immaginata come un grande strumento di crescita al parallelo della consapevolezza delle persone per la qualità dell'ambiente. Grazie. 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 Grazie.